Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, ringraziamo subito iBuyGo per averci mandato questo prodotto da recensire per voi. L'ho utilizzato un paio di giorni e andiamo adesso a fare la recensione di questo prodotto veramente molto interessante, ne ho provati tanti, è un selfie stick quindi un bastone per i selfie del casa Xiaomi, ne ho provati tanti dicevo e sì funzionano tutti abbastanza bene ma questo devo dire ha una solidità di costruzione particolare nel senso è molto più affidabile rispetto ad altri, ha anche una bella, adesso qui inquadrarlo tutto è impossibile, dovrebbero essere circa 90 cm di lunghezza del bastone e andiamo subito a chiuderlo un attimo, abbiamo poi, possiamo ruotare con questa rotellina il selfie stick avanti e indietro quindi dare un'inclinazione giusta, alzare e abbassare questo porta telefono dove quindi andremo a inserire il nostro telefono per andare a fare il nostro selfone paura e devo dire che su questo selfie stick abbiamo una buona protezione e quindi non andremo sicuramente a rovinare il telefono, cosa che invece su altri selfie stick non ho notato, per esempio almeno da me a Monzi a Milano vanno molto i cinesi, i marocchini che lo vendono in centro e devo dire che quelli sì funzionano tutto quello che vuoi però la protezione rispetto al telefono in quanto per esempio qui se vogliamo fare un selfie con la fotocamera posteriore andiamo a mettere sul vetro la parte in plastica, devo dire che in questo caso abbiamo plastica molle che protegge bene, se invece lo utilizziamo dall'altra parte è ancora meglio perché non andiamo a rovinare nulla e devo dire il telefono rimane ben solido sul suo stand, bastone quindi telescopico che si può allungare di molto, abbiamo poi questo pulsante come potete vedere che è il pulsante bluetooth, quindi basterà andare ad attivare il nostro bastone con questa lucina blu e andare a cercare dal telefono il bluetooth del selfie stick, andiamo subito a cercarlo eccolo qua, no ho sbagliato, mi sa che mi sono connesso alla tastiera, no ok, sono connesso al bastone giustamente, apriamo la fotocamera e da questo pulsante ora potremmo andare a comandare la nostra fotocamera, almeno così dovrebbe essere, infatti avete visto abbiamo scattato la nostra foto, quindi come potete vedere schiacciando il pulsante andremo a scattare la foto, è bluetooth, si ricarica tramite micro usb esattamente da qua, abbiamo anche non non so cosa sia sinceramente, mi hanno detto che sia un microfono ma mi sembra strano che registri dal microfono di questo selfie stick e non da quello del telefono, però così hanno detto e l'ho testato, sinceramente non mi è sembrato registrasse, questo è da dire, tuttavia tra tutti i selfie stick che ho provato, assolutamente questo di Xiaomi è il migliore e potrete acquistarlo sul sito di ibuygo.com. Penso di aver detto tutto riguardo a questo selfie stick, ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech.